Questo book thriller è progettato per essere accessibile ai non vedenti e non udenti. Il gioco delle perle di vetro, un libro di Herman S. In quel periodo in cui pareva che il mondo dovesse finire, la grande maggioranza dei gommi conduceva sulla terra un'esistenza semplice, pericolosa, disordinata. Accanto e sopra di essa c'era un altro mondo, quello della Castalia, il mondo spirituale, il mondo della gerarchia. La Castalia sottrasse un giorno un corpo vivo dal mondo, adottandolo, il corpo di Joseph Knecht. Questi trascorse la sua vita presso la provincia e attraversò tutti i gradi. Divenne un maestro nel gioco delle perle, un'arte e una scienza elevata, un volo attraverso i regni dello spirito. Il dentro e il fuori procedevano in armonia e uniformità e si venivano incontro. Ma un giorno iniziò un periodo di battaglia tra etica ed estetica. Regno buio, silenzio primordiale. Estinta da gran tempo, la superna progenia, l'uomo qui rimase solo. Un divenire, una vicenda eterna. Della vita, il richiamo non ha fine. Su, cuore mio, congedati e guarisci. Ervan S, il gioco delle perle di vetro, Arnoldo Monvadori, editore, 1955. Musiche originali, Gianluca Cangemi. Voce narrante, Mario Gugliuzza. Traduzione, Liss, Elisa De Vecchi. Visual Design, Francesca Cicala, Diego Morra, Elena Ritagno. Professori, Dina Ricò, Gianluca Balzerano. Assistenti, Alberto Barone, Giulia Martimucci, Alessandro Zamperini. Scuola del Design, Politecnico di Milano, anno accademico 2018-2019. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.